ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco amobronic sciroppo istituto chimico internazionale dottor giuseppe rende srl ultimo aggiornamento 6 novembre 2021 cos'è amobronic sciroppo confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere amobronic sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli ecipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è amobronic sciroppo amobronic sciroppo è un farmaco a base del principio attivo ambroxolo cloribrato appartenente alla categoria degli emocolitici e nello specifico mucolitici è commercializzato in italia dall'azienda istituto chimico internazionale dottor giuseppe rende srl amobronic sciroppo può essere prescritto con ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco confezioni amobronc 3 mg bar ml sciroppo flacone 200 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare istituto chimico internazionale dottor giuseppe rende srl ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe c principio attivo ambroxolo cloridrato gruppo terapeutico mucolitici forma farmaceutica sciroppo indicazioni trattamento delle turbe della secrezione dell'apparato respiratorio posologia somministrazione per via orale sciroppo ogni ml di sciroppo equivale a mg 3 di ambroxol cloridrato alla confezione di sciroppo e annesso un misurino dosatore con tacche corrispondenti a ml 2,5 5 10 adulti 10 ml 2 3 volte al giorno popolazione pediatrica bambini oltre i 5 anni 5 ml 2 3 volte al giorno lo sciroppo va assunto preferibilmente durante o dopo i pasti controindicazioni il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai due anni per uso orale ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti gravi alterazioni epatiche barra renali avvertenze speciali e precauzioni di impiego sciroppo i mucolitici possono indurre ostruzione bronchiale nei bambini di età inferiore ai due anni infatti la capacità di drenaggio del muco bronchiale è limitata in questa fascia d'età a vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione l'ambroxol non interferisce con altri farmaci quali cardioglicosidi corticosteroidi broncodilatatori antibiotici farmaci che hanno frequente impiego concomitante nelle pneumopatie non è incompatibile con anticoagulanti o antidiabetici vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumeremo bronch sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere a mo bronch sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento gli studi di teratogenesi e di tossicità fetale su animali non hanno messo in evidenza alcun effetto nocivo della mo bronch anche a dosi elevate non è comunque consigliabile come per tutti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari il farmaco non pone problemi alla capacità di guidare di usare macchine effetti indesiderati alle dosi consigliate il farmaco è normalmente ben tollerato raramente osservati nausea cefalea disturbi gastrointestinali non nota ostruzione bronchiale disturbi del sistema immunitario raro reazioni di ipersensibilità non nota reazioni vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio non sono stati segnalati casi di avvelenamento da ambruxol nel caso di ingestione esagerata applicare la normale terapia di emergenza eliminazione del farmaco per vomito o lavanda gastrica e aumento della diuresi proprietà farmacodinamiche categoria farmaco terapeutica mucolitico e spettorante codice atcr 0 5 cb 0 6 il principio attivo è costituito dall'ambruxol sostanza avente azione sulla secrezione del muco delle vie respiratorie per un suo effetto sulla produzione del proprietà farmacocinetiche il farmaco è assorbito nell'apparato gastrointestinale va in circolo o che raggiunge tassi dosabili già dopo sessantesimo e da un'emibita di otto ore circa si distribuisce rapidamente dal sangue ai tessuti dati preclinici di sicurezza la dl 50 per via orale nel topo è oltre 2,6 g barra chilogrammi mentre nel ratto è superiore agli 8 g barra chilogrammi con indice terapeutico molto favorevole dose umana uguale 45 mg barra vie l'ambruxol non elenco degli eccipienti amobronc 3 mg barra ml sciroppo per uso orale 100 ml di sciroppo contengono eccipienti metilepidrossibenzoato propilepidrossibenzoato glicerolo sorbitolo soluzione 70 per cento aroma di frutta acqua depurata farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di amobronc sciroppo a base di ambroxolo cloridrato sono ambrotus ambroxolo admus ambroxolo drom ambroxolo e g aerosol ambroxolo e g sciroppo ambroxolo milagenerix amobronc aerosol azimil broxol granulato broxol sciroppo fluibron aerosol fluibron compressa granulato sciroppo gamma xol golasept tosse grassa muciclar naxim secretil zimpel fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato